Ciao, se ancora non lo sai, io sono Paolo Braga e ti do il benvenuto nel mio lavoratorio. Più vedi lasciarti al video, ricordati di mettere mi piace, iscriverti al canale se non vuoi perdere i video che usciranno in futuro e se magari attivi anche la campanellina, riceverai sicuramente le notifiche quando i video usciranno. Tutto ciò è gratis, quindi non preoccuparti e non avere timore di farlo. Bene, penso di aver detto tutto, io ti lascio al video e ti auguro buona visione. In questo video vedremo come sverniciare i nostri manufatti in legno, che possono essere come una piccola asse di un profilo di legno come questa oppure dei interi mobili, tavoli, credenze e via dicendo, che magari abbiamo recuperato o abbiamo acquistato ma non ci piace il colore oppure il colore rovinato e vogliamo andarlo a ripristinare. In alcuni casi è necessario rimuoverlo del tutto, però in questi casi ci troviamo di fronte a una situazione che potrebbe essere il più difficile del previsto anche perché determinate vernici sono molto aggressive e quindi le nostre alternative non sono molte e non tutte sono così facili. Ovviamente abbiamo la possibilità di armarci di carta vetrata, sia a mano che a macchina e iniziare a levigare e scartavetrare in modo da rimuovere la vernice solo che se la superficie è piccola magari possiamo anche cavarcela Il problema è quando ci troviamo di fronte a grandi superfici, magari un mobile intero o comunque una vernice molto difficile da rimuovere Quindi, come abbiamo detto, possiamo procedere scartavetando a mano o a macchina Una volta c'era la possibilità, che c'è tuttora, ma non è più così efficace secondo me, di utilizzare della soda caustica Mi ricordo infatti circa una ventina di anni fa, io sverdiciavo mobili prima di restaurarli e praticamente cosa succedeva? Scaldavamo un pentolone d'acqua e poi mettevamo queste scaglie di soda caustica all'interno ed era molto efficace, però aveva ovviamente dei lati positivi e dei lati negativi nel senso che era molto pericolosa, era molto ostionante, quindi bisognava avere molta cautela e dimestichezza o non evitare di farsi molto male, e poi comunque bisognava risciacquare molto bene il mobile o il manofatto perché tendeva comunque a continuare a corrodere anche il legno, a mangiare il legno, cosa che non è molto bella e poi lasciava una superficie molto ruvida, alzava parecchio anche il pelo del legno e insomma era efficace sì per rimuovere la vernice, ma poi comportava in seguito un grande lavoro per ripristinare il mobile prima di poterlo poi riverniciare ora ancora come mercio la soda, però non è più efficace come un tempo anche per motivi di sicurezza, per poterla comunque far utilizzare al lobbista anche con non troppa esperienza però appunto non è così efficace e in certi casi potrebbe servire a poco dopodiché sono entrati in gioco gli sverniciatori ovviamente nel corso degli anni anche lo sverniciatore ha avuto delle evoluzioni e ora ci troviamo di fronte a uno sverniciatore comunque di nuova concezione della Veleca in questo caso, ed è uno sverniciatore che si presenta sotto forma di gel ovviamente anche in questo caso ci sono delle avvertenze perché essendo comunque qualcosa che va a corrodere la vernice per cercare di staccarla più facilmente può fare male anche agli occhi e anche alla pelle e quindi va da sé, non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo di utilizzare tutte le precauzioni, cioè guanti, occhiali protettivi e magari anche una mascherina se non possiamo utilizzarlo in un luogo ben areato sostanzialmente cosa dobbiamo fare? la cosa è molto semplice, dobbiamo semplicemente aprire la nostra confezione spesso e volentieri hanno dei tappi di sicurezza appunto per evitare che anche un bambino magari vada ad aprire nevattitamente perché comunque è un prodotto pericoloso andiamo a sbloccare e apriamo il nostro barattolo non so se riesco a farvi vedere si presenta sotto forma di gel nei modi d'uso indicati sul barattolo indica di applicare a pennello lo strato abbondante di sverniciatore 2-3 mm di spessore ed è quello che generalmente bisogna fare ovviamente il tempo necessario per sciogliere lo strato di vernice dipende dal tipo di vernice e anche dai vari strati perché nei tempi io ho sverniciato dei mobili che avevano magari anche 2-3 passate di diversi colori di vernice e quindi man mano che si andavano a sverniciare si vedevano anche le varie tonalità quindi se lo spessore delle vernici è bello spesso ci potrebbe volere un po' di più e anche dal tipo perché ci sono delle vernici più tenaci e i vernici meno tenaci in funzione appunto di questo tipo di vernici ci possono volere 5 minuti 15 minuti se sono vernici più tipo vernici acriliche o la nitro o 12 ore per sollevare la vernici poliuritanica e componenti per parquet ovviamente però qui siamo a casi estremi generalmente nel giro di pochi minuti vediamo già un risultato ora andremo a vedere come fare nello specifico considerate che con un barattolo di questo tipo viene dichiarata circa una resa di 3 metri quadri con un litro una cosa importante e molto interessante è che indica comunque di poter pulire gli attrezzi utilizzati solo con acqua corrente è una cosa molto importante questa perché comunque ci permette di non andare a sprecare magari anche il pennello con il quale andremo a stendere lo sverniciatore magari se non abbiamo a disposizione diluente al nitro per poi lavarlo come si deve bene direi che abbiamo parlato anche troppo io ora mi infilo i guanti e andiamo a vedere nello specifico come fare ora la superficie nel mio caso è molto piccola quindi andrò a metterne una piccola quantità e poi la stenderò se lavorassimo su superfici più grandi possiamo tranquillamente versarne un po' di più e poi dopo lo andiamo a stendere vedete che è di una consistenza gelatinosa e questo permette anche di poterlo gestire molto bene perché ci lascia il tempo di spalmarlo dove ci serve una cosa molto importante di questo tipo di prodotto è che va molto bene anche dove ci sono tipo cesellature o nelle gambe dei tavoli dove bisognerebbe appunto girare intorno con la carta vetrata ci rende ancora più problematica la cosa invece così basta spalmarlo bene e dopo sì dovremo andare un pochino a grattare o a spazzolare però ci risparmia molta fatica ora aspettiamo 5 minuti e vediamo che cosa succede eccoci qua sono passati circa 5 minuti forse anche qualcosina meno in alcuni casi potete vedere proprio la vernice che si increspa e tende ad alzarsi ora forse io perché sono sempre di fretta dovrei lasciare ancora qualche minuto però possiamo già vedere che in alcuni punti dove qui la vernice prima era stesa abbastanza uniformemente già un pochino si sta increspando anche in questo punto vediamo che si sta alzando e se vedete che noi passiamo guardate con quale facilità si va a rimuovere ora possiamo usare un raschietto o una spatola tipo questa però essendo una superficie piccola io mi sono creato da un vecchio coltello che avevo da buttare questo raschietto è un pochino più su misura e vediamo come procedere per rimuovere il tutto semplicemente cominciamo a passare con il nostro raschietto e vediamo che la vernice insieme al prodotto si rimuove e andiamo a scoprire il nudo legno al di sotto anche qui possiamo vedere il dettaglio della vernice che si sta sollevando infatti se vado leggermente a muovere adesso che lo sverniciatore sta lavorando a tutti gli effetti vedete che la vernice si toglie praticamente da sola se noi andiamo a passare se ne viene via ovviamente se lasciamo trascorrere qualche minuto in più sarà totalmente sciolta e con una singola passata riusciamo a togliere tutto però vediamo che già così rispetto a dover star lì a levigare a mano è tutta un'altra storia guardate che bello questo legno al naturale senza questa vernice bianca che lo va semplicemente a coprire adesso quel poco di vernice rimasta semplicemente con un colpo di carta vetrata sia a mano che a macchina vedete che lo togliamo in un baleno cosa che non sarebbe stata sicuramente altrettanto facile se non avessimo usato lo sverniciatore una volta sverniciato il produttore consiglia di lavare con acqua o con diluente al nitro la superficie sverniciata in modo da arrestare comunque l'azione del nostro sverniciatore e direi che questo è quanto io spero di essere stato utile se avete bisogno di qualche consiglio o delucidazione scrivete senza timore nei commenti se vi serve il prodotto che vi ho mostrato lo trovate in descrizione vi metto il link per l'acquisto penso che sia comunque un sistema molto valido che ci aiuta molto così che da fare meno fatica e goderci anche di più il tempo passato a lavorare questo bellissimo materiale che è il legno bene amici anche questo video è terminato io come sempre vi chiedo di farmi sapere che cosa ne pensate nei commenti vi chiedo anche di iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti e spuntare la campanellina se volete restare aggiornati sui futuri video mettete mi piace se il video vi è piaciuto o non mi piace se il video non vi è piaciuto condividetelo con i vostri amici perché potrebbe essere utile a tanti altri come noi appassionati di fai da te così facendomi aiuterete a far capire al mondo intero quanto è importante riciclare riutilizzare utilizzare le proprie mani e quanto è bello costruirsi le cose in fai da te detto ciò a me non resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti